Al centro del dibattito in questi giorni ci sono i dati, quelli che finiscono quotidianamente nel report dei contagi del Ministero della Salute e che secondo alcuni potrebbero essere drogati dalla burocrazia. Oppure come sostiene questo medico che svolge funzioni di dirigente in un ospedale romano che sarebbero in certi casi volontariamente alterati. È frequente che venga scritto sulla cartella che un paziente è morto di covid quando in realtà non lo è. Ma a che scopo? In modo che salga il numero di positivi. La stessa cosa accade con i ricoveri. Se un malato oncologico entra in ospedale e poco dopo si rivela positivo, anche se non ha sintomi, diventa immediatamente un paziente covid. È gravissimo che trasferiscono un malato di rumore in una struttura covid. Può essere come mandarla alla morte, ma accade spesso. Ma a che cosa servono tutti questi positivi? A fare soldi. Lei capisce che uno che mi entra in ospedale con una gamba rotta e poi mi risulta positivo non mi costa quelle cifre se non ha sintomi. Chi ci guadagna? L'ospedale prende dei rimborsi in proporzione al numero dei ricoveri e quindi tecnicamente la legge viene rispettata. Ma poi esistono logiche per spartirsi in bottina. Ma perché un ospedale pubblico dovrebbe avere questo interesse? Ci sono interessi, soldi, potere, avanzamenti di carriera. Li stanno premiando e hanno già cominciato. In che modo può farci qualche esempio? Rimodulando i contratti. L'hanno chiamata produttività, ma purtroppo si producono soltanto molte false morti per covid. Ma c'è di più. In alcune strutture ospedaliere si alterano i dati perché sperano che, dimostrandosi in sofferenza per il covid, possano mettere le mani più facilmente sui soldi del PNRR. Si stanno organizzando anche per assumere un nuovo personale, nonostante questa cosa non sia prevista. In che senso? Il pubblico apre le strutture e la gestione del personale viene data ai privati. I positivi servono per alimentare il sistema. Un sistema capace quindi di trasformare il covid in un business. Ma è davvero così? Sì. Per capirlo abbiamo consultato la gazzetta ufficiale, dove sono indicati i costi per le degenze e le maggiorazioni previste in caso di malato di covid. Oltre 3.000 euro per i ricoveri in area medica e oltre 9.000 euro per ogni paziente in terapia intensiva. Ma se questi rimborsi servono a coprire le maggiori spese generate dal trattamento dei malati di covid, dov'è il guadagno? Io ti scopro covid e ti pago da quando sei entrato come covid. All'articolo 2 si legge infatti che le maggiorazioni sarebbero erogate indipendentemente dal codice DRG della dimissione. In altre parole non solo viene incassato questo bonus finale, ma l'intera degenza viene contabilizzata come covid, anche se il paziente non era positivo al momento dell'ingresso. Le faccio un esempio, io entro per una qualsiasi patologia, anche una caviglia rotta e magari staziono 3, 4, 5 giorni. Poi un tampone mi certifica che c'è il covid e come dice la gazzetta ufficiale, tutta questa roba qui, le mie giornate di degenza cambiano tabella economica. Ditemi cosa, è una cosa normale del genere, è un'assurdità, però è legale. Una scelta che rimette al centro la necessità di un controllo su questo enorme flusso di denaro pubblico. Lo deve fare il controllo solo un organo terzo, che monitorizzi costantemente i passaggi dei malati. E che getterebbe ulteriori ombre sulla gestione dei ricoveri da parte delle strutture chiamate alle armi durante l'emergenza. In emergenza sono stati venduti i posti lette alle cliniche accreditate e quelle non accreditate. È fondamentale il controllo del denaro pubblico che è stato riversato nelle strutture private. Proprio le logiche del business sarebbero alla base della gestione scellerata di una struttura privata che opera nel tessuto della sanità laziale. È un business, il covid per i privati è un business. Ascoltate che cosa ci racconta questo sanitario. Quello che succede nell'ambito privato è qualcosa di molto grave. A noi sono arrivate richieste dall'alto dai direttori generali, direttori sanitari, di alterare le cartelle cliniche, scrivendo magari che il tampone è positivo o dichiarando come covid casi sospetti. Per l'ospedale su dieci morti sette sono covid. È già deciso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.